Sigmund Freud, Lio e Les e altri scritti, Gli inquietante, capitolo 2. Passando ora in rassegna persone e cose, impressioni, eventi e situazioni tali da ridestare in noi con particolare forza e chiarezza un senso di inquietante, la prima richiesta è scegliere l'esempio calzante. Jens ha rilevato come caso particolarmente adatto il dubbio che un essere apparentemente animato sia davvero vivo e viceversa il dubbio che un oggetto privo di vita non sia forse animato, rifacendosi all'impressione data da figure di cera, pupazzi e automi. Annovera in questa categoria il senso di inquietante destato da attacchi epilettici e manifestazioni di pazzia, fenomeni che nello spettatore suscitano il sospetto di possibili processi automatici, meccanici, celati dietro l'immagine consueta degli esseri viventi. Ora, senza essere del tutto convinti dell'opinione di Jens, per la nostra personale ricerca vogliamo tuttavia ricollegarci ad essa, perché in seguito ci riporterà un autore che come nessun altro è riuscito a produrre effetti inquietanti. Uno degli artifici più sicuri per suscitare facilmente nei racconti effetti inquietanti, scrive Jens, si basa sul lasciare il lettore di fronte a una certa figura all'oscuro se si trova davanti a una persona o a un automa, facendo però in modo che l'incertezza non focalizzi l'attenzione del lettore per non indurlo ad analizzare subito la situazione e a chiarirla, perché allora, come già detto, il particolare effetto emotivo svanirebbe facilmente. Nei suoi racconti fantastici E.T.A. Hoffman ha ripetutamente attuato con successo tale manovra psicologica. L'osservazione, di certo giusta, si riferisce soprattutto al racconto L'uomo della sabbia, 1816, nella raccolta dei racconti notturni, terzo volume dell'edizione Grisebach, dell'opera Omnia di Hoffman. È un racconto fantastico da cui la figura della bambola olimpia è approdata nel primo atto dell'opera di Hoffman, i racconti Hoffman. Devo però dire, sperando che la maggior parte dei lettori del racconto concordi con me, che il motivo della bambola olimpia in apparenza viva non è affatto l'unico cui attribuire l'incomparabile effetto inquietante del racconto e neppure il solo cui attribuirlo in modo esclusivo. All'effetto inquietante non giova neppure che l'autore stesso volga leggermente al satirico l'episodio di Olimpia per schernire la sopravvalutazione amorosa in cui il giovane protagonista cade. Al centro del racconto si trova piuttosto un altro motivo, che poi dà il titolo al racconto ed è di continuo chiamato nei passi decisivi. Il motivo dell'uomo della sabbia che strappa gli occhi ai bambini. Lo studente Nathaniel, da cui Ricordi d'infanzia prende le mosse il racconto fantastico, nonostante l'attuale felicità non sa liberarsi dai ricordi legati alla morte misteriosa e spaventosa dell'amato padre. Certe sere la madre usava spedire i bambini a letto di buon'ora ammonendoli, arriva l'uomo della sabbia. E il bambino udiva davvero ogni volta il passo pesante del visitatore che quella sera si accaparrava il padre. Interpellata sull'uomo della sabbia, la madre ne negava l'esistenza se non come modo di dire, ma c'era una bambinaia in grado di dare informazioni più precise. È un uomo cattivo che va dai bambini che non vogliono andare a letto e getta loro manciate di sabbia negli occhi finché non saltano fuori dalla testa sanguinanti. Allora li butta nel sacco e li porta sulla mezzaluna, dove li dà impasto ai suoi piccoli che stanno lì nel nido e, come le civette, hanno il becco curvo con cui beccano gli occhi dei bambini cattivi. Sebbene il piccolo Nathaniel fosse abbastanza grande e intelligente da respingere particolari così orripilanti, la paura della figura dell'uomo della sabbia si fissò saldamente in lui. Decise di vedere com'era, una sera in cui l'uomo era di nuovo atteso, si nascose nello studio del padre. Allora nel visitatore riconobbe l'avvocato Coppelius, personaggio repellente che i bambini cercavano di evitare quando, di tanto in tanto, era ospite a pranzo e identificò Coppelius con il temuto uomo della sabbia. Ai fini degli ulteriori sviluppi di questa scena, l'autore insinua già il dubbio, siamo di fronte al primo delirio del bambino in preda all'angoscia o a un resoconto da considerare reale nel mondo dove il racconto si svolge. Il padre e l'ospite si affaccendano intorno a un focolare fiammeggiante. Udendo Coppelius gridare, occhi qui, occhi qui, il piccolo spione si tradì con un grido. Coppelius l'afferrò volendo spargere sui suoi occhi i granelli incandescenti presi dalla fiamma e gettarli poi nel bracere. Il padre implorò di risparmiare al figlio gli occhi. Un profondo svenimento e una lunga malattia conclusero l'evento. Chi ha deciso di interpretare razionalisticamente l'uomo della sabbia non mancherà di riconoscere nella fantasia del bambino l'influente persistere del racconto della bambinaia. Anziché i granelli di sabbia da spargere sugli occhi del fanciullo, ora ci sono granelli incandescenti. In entrambi i casi lo scopo è far schizzare fuori gli occhi. Durante una successiva visita dell'uomo della sabbia, un anno dopo, il padre muore in un'esplosione nello studio. L'avvocato Coppelius scompare di scena senza lasciar traccia. Ora studente, Nathaniel crede di riconoscere la spaventosa figura della sua infanzia in un ottico ambulante italiano, Giuseppe Coppola, che nella città universitaria si offre di vendergli degli occhiali da sole e al suo rifiuto ribatte «Ah, mica occhiali da soli, mica occhiali da soli, c'ho anche un bei occhi, bei occhi». Il raccapriccio dello studente si placa perché gli occhi offerti si rivelano innocui occhiali da vista. Compra da Coppola un telescopio tascabile con cui scruta nella casa di fronte, dove abita il professor Spallanzani, e scopre la sua bella figlia, Olimpia, enigmaticamente laconica e immobile. Ben presto se ne innamora, in modo così violento da dimenticare la sua saggia e sobria fidanzata. Ma Olimpia è un automa, in cui Spallanzani ha messo il meccanismo e Coppola, l'uomo della sabbia, gli occhi. Lo studente arriva mentre i due artigiani stanno litigando per la loro opera. L'ottico è riuscito a impossessarsi della bambola di legno priva degli occhi. Il meccanico Spallanzani getta in petto a Nathaniel gli occhi sanguinanti di Olimpia, che stavano per terra, dicendo che Coppola li ha rubati a lui, Nathaniel, il quale è preso da una nuova crisi di follia. Nel delirio la reminescenza della morte del padre si associa all'impressione recente. Cerchio di fuoco, cerchio di fuoco, gira cerchio di fuoco, allegro, allegro, bambolina di legno, bella bambolina, gira. Così dicendo si getta sul professore, padre presunto di Olimpia, volendo strangolarlo. Uscito da una lunga e grave malattia, Nathaniel sembra finalmente guarito. Pensa di sposare la ritrovata fidanzata. Un giorno i due attraversano la città. Sulla piazza del mercato, l'alta torre del palazzo comunale getta un'ombra gigantesca. La ragazza propone al fidanzato di salire sulla torre, mentre il fratello di lei, che accompagna la coppia, resta di sotto. In cima, l'attenzione di Clara è attratta da qualcosa di strano che si muove per la strada. Nathaniel osserva la stessa scena con il cannocchiale di Coppola, che si ritrova in tasca, ed è preso di nuovo dalla follia, gritando, bambolina di legno, gira! Vuol gettare la ragazza nel vuoto. Richiamato dalle grida della fanciulla, il fratello la salva e si precipita giù con lei. In cima, intanto, l'invasato corre qua e là, continuando a gridare, cerchio di fuoco, gira! Frase di cui conosciamo l'origine. Tra la folla di persone di sotto spicca l'avvocato Coppelius, ricomparso all'improvviso. Possiamo ammettere che sia stata la vista del suo approssimarsi a provocare lo scoppio di foglia di Nathaniel. I presenti vogliono salire sulla torre per impadronirsi dell'invasato, ma Coppelius ride. Aspettate, aspettate, verrà giù da solo. D'improvviso Nathaniel si ferma, si avvede di Coppelius e si getta giù oltre il parapetto con un grido stridulo. Sì, bei occhi, bei occhi! Appena sull'astrico con la testa fracassata, l'uomo della sabbia scompare nella calca. Il breve riassunto non lascia dubbi sul legame diretto tra la figura dell'uomo della sabbia e il senso dell'inquietante, ossia l'idea di essere privati degli occhi, effetto che non ha nulla a che vedere con l'incertezza intellettuale alla Yensh. Il dubbio sull'animazione, pur valido secondo noi nel caso della bambola olimpia, non entra in questione in quest'altro più forte esempio di inquietante. Inizialmente l'autore desta in noi, certo senza intenzione, una sorta di incertezza, impedendoci in un primo tempo di indovinare se ci introdurrà nel mondo reale o in quello fantastico di sua invenzione. Notoriamente ha il diritto di fare una cosa o l'altra. Se ha deciso, per esempio, di inscenare l'azione in un mondo di spiriti, demoni e spettri, come Shakespeare nell'Amleto, nel Macbeth e in altro senso nella Tempesta e nel Sogno di una notte d'estate, dobbiamo arrenderci e, finché li daremo credito, considerare reale il mondo da lui ideato. Ma nel corso del racconto di Hoffman il dubbio scompare. Notiamo che l'autore vuole farci vedere le cose attraverso gli occhiali o il cannocchiale dell'ottico demoniaco, avendole forse viste gli stesso di persona attraverso tale strumento. La conclusione della storia chiarisce definitivamente che l'ottico Coppola è realmente l'avvocato Coppelius, e quindi anche l'uomo della sabbia. Qui non è più questione di incertezza intellettuale. Ora sappiamo che non ci sono messe davanti le creazioni della fantasia di un folle, dietro cui riconoscere nella nostra razionalistica superiorità il semplice dato di fatto. Comunque, il chiarimento non sminuisce per nulla l'impressione inquietante. L'incertezza intellettuale non contribuisce per nulla a comprendere l'effetto inquietante. L'esperienza psicoanalitica ci avverte invece che danneggiare o perdere gli occhi è una tremenda angoscia infantile. Il timore resta in molti adulti che non temono altra lesione organica quanto quella degli occhi. Del resto non si usa dire che si custodirà qualcosa come la pupilla degli occhi. Lo studio dei sogni, delle fantasie e dei miti ci ha inoltre insegnato che la paura per gli occhi, l'angoscia di perdere la vista, sostituisce abbastanza spesso l'angoscia di castrazione. Anche l'auto accecarsi del mitico criminale edipo non è altro che una forma mitigata della pena di castrazione. La sola, secondo la legge del taglione, adeguata al suo caso. La mentalità razionalistica si può rifiutare di derivare l'angoscia per gli occhi dall'angoscia di castrazione, trovando comprensibile che un grandissimo timore protegga un organo così prezioso come l'occhio. Addirittura, facendo un altro passo avanti, si può affermare che dietro l'angoscia di castrazione non si nasconda alcun segreto particolarmente profondo o altri significati. Ma così non si giustifica la relazione sostitutiva manifesta nel sogno, nella fantasia e nel mito tra occhio e membro virile, né si riesce a contrastare l'impressione che un sentimento particolarmente intenso e oscuro si erga proprio contro la minaccia di perdere il membro sessuale e che solo questo sentimento conferisca risonanza all'idea di perdere altri organi. Poi ogni ulteriore dubbio scompare venendo a conoscenza nelle analisi dei nevrotici delle particolarità del complesso di castrazione e del ruolo straordinario assunto nella coscienza della loro vita psichica. Comunque, a nessun avversario della concezione psicoanalitica consiglierei di rifarsi proprio al racconto di Hoffman per sostenere che la paura per gli occhi non dipende dal complesso di castrazione. Infatti, perché tale paura è qui messa nella più intima relazione con la morte del padre? Perché l'uomo della sabbia entra ogni volta in scena come chi turba l'amore? È lui che divide l'infelice studente dalla fidanzata e dall'amico più caro, suo fratello. È lui che annienta il secondo oggetto del suo amore, la bella bambola Olimpia, e lo costringe al suicidio proprio quando sta per riunirsi felicemente alla sua riconquistata Clara. Questi e molti altri tratti del racconto appaiono arbitrari e insensati, respingendo la relazione tra timore per gli occhi e castrazione, mentre diventano significativi sostituendo all'uomo della sabbia il padre temuto da cui la castrazione è attesa. Osiamo dunque ricondurre l'inquietante dell'uomo della sabbia all'angoscia del complesso infantile di castrazione, ma appena sfiorati dall'idea di considerare tale fattore infantile all'origine del senso dell'inquietante, ci orientiamo a cercare di attribuire la stessa genesi anche ad altri aspetti dell'inquietante. Nell'uomo della sabbia si trova anche l'altro motivo della bambola all'apparenza viva, già rilevato da Yens, autore secondo cui condizione particolarmente favorevole a produrre sentimenti inquietanti e ridestare l'incertezza intellettuale se qualcosa sia o non sia viva, spinge troppo in là la somiglianza con il vivo. Naturalmente però con le bambole non siamo molto lontani dal mondo infantile. Ricordiamo che all'età dei primi giochi la bambina non distingue in generale ciò che è vivo da ciò che non lo è e in particolare tratta volentieri la sua bambola come essere vivente. Anzi, a volte da certe pazienti sentiamo raccontare d'essere state ancora otto anni persuase che bastasse rivolgere alle loro bambole un particolare sguardo il più penetrante possibile perché prendessero vita. Anche qui dunque è facile dimostrare il fattore infantile. Ma cosa singolare nel caso dell'uomo della sabbia si trattava di un'antica angoscia infantile ridestata, mentre nel caso della bambola vivente l'angoscia non c'entra. La bimba non si spaventava alla vista della bambola che diventava viva, anzi forse aveva desiderato che ciò accadesse. La fonte del sentimento inquietante non sarebbe dunque in questo caso la paura infantile, bensì il desiderio o anche la semplice credenza infantile. Sembra contraddittorio, ma è possibile che si tratti solo di una pluralità che in seguito potrebbe tornarci utile per comprendere. In letteratura Hoffman è l'impareggiabile maestro dell'inquietante. Il suo romanzo Gli Elisir del Diavolo esibisce un tale garbuglio di motivi che saremmo tentati di attribuire l'effetto inquietante alla storia. Il contenuto del racconto è troppo denso e intricato per tentare di darne un estratto. Alla fine del libro, quando al lettore sono illustrate le premesse dell'azione, fino a quel momento tenute celate, il risultato non è la delucidazione, ma il completo smarrimento. Lo scrittore ha ammassato troppe cose tra loro simili e benché l'impressione esercitata dall'insieme non ne soffra, ne soffre la comprensione. Bisogna perciò accontentarsi di mettere in rilievo i fattori di maggior spicco, tra quelli che esercitano l'effetto inquietante, per cercare se anche per essi sia possibile derivarli da fonti infantili. Tra questi ci sono il motivo del sosia in tutte le sue gradazioni e configurazioni, ossia la comparsa di personaggi che, presentandosi con il medesimo aspetto, vanno ritenuti identici. L'accentuazione di questo rapporto con salto di processi psichici da una persona all'altra, che chiameremo telepatia, così che l'una condivide sapere, sentimenti e vissuti dell'altra. L'identificazione con un'altra persona ha tanto da sbagliarsi sul proprio io o da sostituire il proprio con quello dell'estraneo. Quindi il raddoppiamento, suddivisione, permuta dell'io e infine il costante ritorno dell'identico, la ripetizione degli stessi tratti del volto, stessi caratteri, stessi destini, stesse imprese delittuose, perfino gli stessi nomi in più generazioni successive. Il tema del sosia ha trovato approfondito apprezzamento nel lavoro omonimo di Otto Rank, che indaga i rapporti tra sosia e immagini allo specchio, ombra, genio tutelare, dottrina dell'anima e paura della morte, ma mette anche chiaramente in luce la sorprendente storia evolutiva del motivo. In origine, infatti, il sosia rappresenta una rassicurazione contro la scomparsa dell'io, l'energica smentita del potere della morte, Rank. Verosimilmente l'anima immortale fu il primo sosia del corpo. La creazione di tale doppione, a difesa dall'annientamento, trova riscontro nella rappresentazione del linguaggio onirico, che ama esprimere la castrazione raddoppiando o moltiplicando il simbolo genitale. Nella civiltà dell'antico Egitto diventò spinta all'arte di modellare l'immagine del defunto in materiali duraturi nel tempo. Ma queste rappresentazioni sono sorte sul terreno dell'amore illimitato di se stessi, del narcisismo primario che domina la vita psichica sia del bambino sia dell'uomo primitivo. Poi, superata tale fase, il presagio del sosia muta. Da assicurazione di sopravvivenza diventa l'inquietante preannuncio di morte. La rappresentazione del sosia non tramonta di necessità con il narcisismo primitivo. Infatti, può acquisire nuovi contenuti tratti dalle successive fasi di sviluppo dell'io. Nell'io prende lentamente forma un'istanza particolare, in grado di opporsi al resto dell'io, funzionale all'autoosservazione e all'autocritica, che effettua il lavoro di censura psichica e ci diviene nota come coscienza morale. Nel caso patologico del delirio di essere osservati, tale istanza si isola, si scinde dall'io, diventa osservabile dal medico. Il dato di fatto dell'esistenza di un'istanza del genere, che può trattare il resto dell'io come oggetto, mettendo l'uomo in grado di autoosservarsi, consente di attribuire nuovo contenuto alla vecchia rappresentazione del sosia e di assegnarle compiti diversi e disparati, in primo luogo l'autocritica di tutto ciò che pare appartenere all'antico e superato narcisismo di tempi remoti. Comunque, accanto al contenuto sconveniente per la critica dell'io, il sosia può incorporare ogni sorta di possibilità irrealizzate, che il destino terrebbe in serbo e alle quali la fantasia vuole ancora aggrapparsi, e tutte le aspirazioni dell'io che non hanno potuto realizzarsi per sfavorevoli circostanze esterne, nonché le decisioni represse della volontà che hanno prodotto l'illusione del libero arbitrio. Tuttavia, dopo aver trattato la motivazione manifesta della figura del sosia, dobbiamo dire che nulla di tutto ciò ci rende comprensibile l'elevato livello di turbamento connesso. Inoltre, in base alla nostra conoscenza dei processi patologici della psiche, possiamo aggiungere che niente di tale contenuto potrebbe spiegare la tendenza difensiva con cui è proiettato fuori dall'io come qualcosa di estraneo. Allora, il carattere inquietante può poggiare solo sul fatto che il sosia sia una formazione appartenente a tempi psichici preistorici ormai superati, quando aveva comunque un significato più amichevole. Il sosia è diventato uno spauracchio, come gli dèi che, dopo la caduta della loro religione, si sono trasformati in demoni, Heine, gli dèi in esilio. Gli altri disturbi dell'io utilizzati da Hoffman si possono valutare facilmente in base al modello del sosia. Si tratta di ripercorrere le singole fasi della storia evolutiva a del senso dell'io, regredendo al tempo in cui l'io non si era ancora nettamente delimitato dal mondo esterno e dall'altro. Credo che tali motivi concorrano a produrre l'impressione inquietante, anche se non è facile stabilire quanta parte di responsabilità vi abbia ciascuno singolarmente preso. Forse non tutti riconosceranno nella ripetizione dell'identico la fonte del senso dell'inquietante. Stando alle mie osservazioni, in determinate condizioni e combinato con particolari circostanze, tale fattore evoca indubbiamente un sentimento del genere, che inoltre ricorda l'impotenza di certi stati onirici. Una volta, in un caldissimo pomeriggio estivo, girando per strade deserte a me ignote di una cittadina italiana, capitai in un quartiere sul cui carattere non potevo avere dubbi. Alle finestre delle casette si vedevano solo donne imbellettate e mi affrettai ad abbandonare la stradina alla prima svolta. Ma dopo aver girovagato senza direzione per un pezzo, mi ritrovai all'improvviso nella stessa strada, dove la mia presenza cominciò ad attirare l'attenzione. La mia frettolosa ritirata ebbe l'unica conseguenza che dopo un altro giro vizioso mi ritrovai per la terza volta ancora lì. Allora mi prese un senso che solo ora posso definire inquietante. Fui contento solo quando, rinunciando ad altri giri esplorativi, mi ritrovai nella piazza lasciata poco prima. Altre situazioni che con quella appena descritta hanno in comune il ritorno non intenzionale, ma per il resto sono in fondo diverse, hanno come conseguenza lo stesso senso di impotenza e di inquietudine. Ciò accade per esempio smarrendosi in una foresta di montagna, magari sorpresi dalla nebbia, e a dispetto di tutti gli sforzi per giungere a una strada segnata o almeno nota, si ritorna ogni volta nello stesso punto, contraddistinto da una determinata configurazione. O quando si procede a tentoni in una stanza sconosciuta, immersa nel buio, cercando la porta o l'interruttore, e a furia di cercare, si torna a urtare per l'ennesima volta contro lo stesso mobile. Va detto però che, esagerando in modo grottesco la situazione, Mark Twain l'ha trasformata in evento di irresistibile comicità. In un'altra serie di esperienze riconosciamo senza fatica che solo il fattore della ripetizione non intenzionale rende inquietante l'innocuo di per sé, forzandoci ad accettare l'idea di fatale e ineluttabile, dove altrimenti avremmo parlato solo di casuale. Così, per esempio, è un'esperienza indifferente se, depositando il soprabito al guardaroba, si riceve la contromarca con un certo numero, diciamo 62, o se si trova che la cabina assegnata sul battello porta quel numero. Ma l'impressione cambia se le due circostanze in sé irrilevanti si succedono l'una dopo l'altra e uno si imbatte nel numero 62 più volte nello stesso giorno. Tanto più se poi si dovesse addirittura osservare che in tutto ciò che reca l'indicazione di un numero, indirizzi, camere d'albergo, posti in treno e così via, ricompare sempre lo stesso numero, almeno in parte. Si trova la cosa inquietante e chi non sia solidamente corazzato contro le tentazioni della superstizione si sentirebbe incline ad attribuire all'ostinato ritorno del medesimo numero un significato misterioso, magari vedendovi un segno dell'età che gli sarà consentito raggiungere. Sarebbe lo stesso se, proprio mentre siamo impegnati a studiare gli scritti del grande fisiologo Evald Herring, a pochi giorni di distanza l'una dall'altra ricevessimo da paesi diversi due lettere firmate con quel nome, mentre fino ad allora non eravamo mai entrati in rapporto con altri chiamati così. Poco tempo fa un naturalista d'ingegno ha tentato di subordinare coincidenze di questo tipo a determinate leggi, cosa che dovrebbe cancellare l'inquietante impressione suscitata. Non oso dire se sia riuscito o no nell'intento. Posso solo accennare a come l'inquietudine da ritorno dell'identico derivi dalla vita psichica infantile. Perciò rinvio il lettore a una descrizione esauriente, già pronta, inserita in un diverso contesto. Nello psichicamente inconscio è riconoscibile il predominio di una coazione a ripetere, emergente dai moti pulsionali, verosimilmente dipendente dall'intima natura delle stesse pulsioni, abbastanza forte da estromettere il principio di piacere. È lei a conferire a determinati aspetti della vita psichica il carattere demoniaco. È ancora lei a esprimersi assai chiaramente negli impulsi dei bambini in tenera età e a dominare parte del decorso del trattamento analitico dei nevrotici. Tutte le precedenti discussioni ci hanno preparato ad ammettere che si avverta come inquietante quanto attiene all'interna coazione a ripetere. Ora però penso giunto il momento di abbandonare considerazioni difficili da giudicare per cercare casi che presentino l'inequivocabile carattere inquietante dalla cui analisi sia lecito attendersi una parola definitiva sulla validità della nostra ipotesi. Nell'anello di Policrate l'ospite si allontana con orrore perché nota che ogni desiderio dell'amico si realizza subito e il destino toglie immediatamente di mezzo ogni sua preoccupazione. L'ospite da amico li diventa inquietante. La spiegazione da lui stesso data che chi è troppo fortunato deve temere l'invidia degli dèi ci riesce ancora poco trasparente poiché il mito vela il suo significato. Prendiamo perciò un altro esempio da situazioni molto più modeste. Nel caso clinico di una nevrosi ossessiva ho narrato che una volta il malato soggiornò in un istituto idroterapico traendone grande miglioramento. Fu tuttavia tanto intelligente da non attribuire il successo alle virtù curative dell'acqua ma alla posizione della sua camera attigua a quella di una compiacente infermiera. Tornato la seconda volta nell'istituto chiese che gli fosse assegnata la stessa camera ma si sentì rispondere che era già occupata da un vecchio signore. Alla notizia sfogò il proprio malumore con le parole che gli venga un colpo. Due settimane dopo il vecchio signore ebbe in realtà un colpo. Per il mio paziente fu un'esperienza inquietante. L'impressione inquietante sarebbe stata ancora più forte se tra esclamazione e infortunio fosse trascorso un tempo molto più breve o se fosse stato in grado di riferire molte altre coincidenze simili. In effetti portare queste conferme non li creava il minimo imbarazzo. Ma non solo lui. Tutti i nevrotici ossessivi da me studiati potevano raccontare di sé cose analoghe. Non erano sorpresi di incontrare regolarmente la persona cui avevano appena pensato, magari a distanza di tempo. Era per loro usuale ricevere al mattino una lettera da un amico quando la sera prima avevano detto e da un po' che non sento parlare di lui. Soprattutto era raro il verificarsi di incidenti o casi di morte senza che poco prima ciò fosse loro balenato in mente. Esprimevano abitualmente il dato di fatto con la massima semplicità, affermando di avere presentimenti che per lo più accadevano. Una delle forme più inquietanti e più diffuse di superstizione è la paura del malocchio, che un oculista di Hamburgo, Seligman, ha trattato in modo approfondito. La fonte di questa paura non pare sia mai stata misconosciuta. Chi possiede qualcosa di prezioso e quindi di fragile teme l'invidia degli altri, proiettando su di loro l'invidia che egli stesso proverebbe nel caso inverso. Questi moti si tradiscono con lo sguardo, anche senza parole, e se tra gli altri viecchi spicchi per caratteristiche particolarmente indesiderate, subito si crede che la sua invidia raggiungerà un'intensità particolare, poi mandata a effetto. Si teme perciò l'intenzione segreta di nuocere, che per certi indizi si suppone dotata anche della forza di realizzarsi. Gli ultimi esempi di inquietante, citati, dipendono da un principio che accogliendo un suggerimento di un paziente ho chiamato onnipotenza dei pensieri. Ora non possiamo più misconoscere il terreno dove ci troviamo. L'analisi dei casi di inquietante ci ha portato all'antica concezione animistica del mondo, caratterizzata da un mondo pieno di spiriti umani, dalla sopravvalutazione narcisistica dei propri processi psichici, dall'onnipotenza dei pensieri e dalla tecnica della magia costruita su tale onnipotenza, dall'attribuzione di poteri magici accuratamente graduati a persone e cose estranee, mana, nonché da tutte le creazioni con cui il narcisismo illimitato di quella fase evolutiva si opponeva all'evidente esigenza della realtà. Sembra che tutti noi, nella nostra evoluzione individuale, abbiamo attraversato una fase corrispondente all'animismo dei primitivi e che nessuno di noi abbia superato tale fase senza lasciarsi dietro residui e tracce ancora suscettibili di manifestarsi, e che quanto oggi ci appare inquietante sia dovuto allo sfiorare tali residui di attività psichica animistica, spingendoli a manifestarsi. A questo punto due osservazioni in cui vorrei stabilire il contenuto essenziale della mia piccola ricerca. In primo luogo, se la teoria psicoanalitica ha ragione di affermare che la rimozione trasforma in angoscia ogni eccitazione, affect, di un moto affettivo di qualunque tipo, allora tra i casi di angoscia deve esserci un gruppo in cui si può scorgere che l'elemento angoscioso è qualcosa di rimosso che ritorna. Inquietante sarebbe appunto tale tipo di cosa angosciosa. Dovrebbe perciò essere indifferente se quanto ora inquieta era angoscioso fin dall'origine o comportava un'altra eccitazione. In secondo luogo, se questa è realmente la natura segreta dell'inquietante, allora comprendiamo perché l'uso linguistico consente ad Heimlich di passare al contrario, all'un Heimlich. Infatti l'elemento inquietante non è in realtà niente di nuovo o di estraneo, ma invece fin dai tempi remoti un che di familiare alla vita psichica, da essa estragnatosi solo a causa del processo di rimozione. Il rapporto con la rimozione ci chiarisce ora anche la definizione di Schelling, secondo cui l'inquietante è qualcosa che avrebbe dovuto rimanere nascosto e invece si è manifestato. Ora non ci resta che mettere alla prova il modo di vedere acquisito spiegando altri casi di inquietante. A molti appare al massimo grado inquietante ciò che è connesso alla morte, ai cadaveri e al ritorno dei morti, con spiriti e spettri. Abbiamo visto che alcune lingue moderne non sanno rendere la nostra espressione una casa un Heimlich, altrimenti che con la circonlocuzione una casa abitata da spettri. A dire il vero avremmo potuto iniziare la nostra ricerca con questo esempio di inquietante, forse il più spiccato di tutti. Non l'abbiamo fatto perché in questo caso l'inquietante è mescolato troppo strettamente all'orrido e in parte coincide con esso. Ma è raro trovare un ambito in cui il nostro modo di pensare e di sentire sia così poco cambiato dai tempi preistorici dove l'elemento antico si sia conservato così bene sotto una copertura sottile come nel nostro rapporto con la morte. Due fattori informano bene su tale arresto, la forza delle nostre reazioni emotive originarie e l'incertezza della nostra conoscenza scientifica. La nostra biologia non è ancora riuscita a decidere se la morte sia il destino necessario di ogni essere vivente o solo un caso regolare ma forse evitabile all'interno della vita. La preposizione tutti gli uomini sono mortali fa sfoggio nei trattati di logica come modello di asserzione universale. Ma nessuno è chiara e il nostro inconscio fa tanto poco opposto come in passato alla rappresentazione della propria mortalità. Da sempre le religioni sostengono l'importanza dell'incontestabile dato di fatto della morte individuale e prolungano l'esistenza oltre la fine della vita. I poteri statali giudicano insostenibile l'ordine morale tra i viventi, rinunciando a correggere la vita terrena con un al di là migliore. I manifesti affissi nelle nostre metropoli annunciano conferenze che pretendono insegnare come metterci in contatto con le anime dei defunti. È innegabile che molte delle teste più fini e dei pensatori più acuti tra gli uomini di scienza hanno ritenuto, specie verso la fine della loro esistenza terrena, che tale rapporto non sia impossibile. Poiché sul punto quasi tutti noi la pensiamo ancora come i selvaggi, non c'è da stupire che il primitivo timore della morte sia in noi ancora così forte e pronto a venire fuori appena qualcosa gli vada incontro. Verosimilmente tale timore ha ancora l'antico senso per cui il morto è diventato nemico dei sopravvissuti, che mi rapprendere con sé come compagni della sua nuova esistenza. Piuttosto data l'immutabilità del nostro atteggiamento verso la morte, potremmo chiederci che ne è della rimozione, necessaria perché ciò che è primitivo possa far ritorno come inquietante. Ma essa sussiste ancora. Ufficialmente le cosiddette persone colte non credono più all'apparire dei morti come anime ne hanno collegato la loro comparsa a condizioni insolite e raramente realizzabili. L'originario atteggiamento emotivo verso il morto, molto ambiguo e ambivalente, è andato smorzandosi, negli strati superiori della vita psichica, nell'atteggiamento univoco di pietà. A questo punto c'è bisogno solo di alcune integrazioni, perché con animismo, magia incantesimo, onnipotenza dei pensieri, relazione con la morte, ripetizione non intenzionale e complesso di castrazione, abbiamo più o meno esaurito l'ambito dei fattori che trasformano l'angoscioso in inquietante. Anche di un uomo vivo diciamo che è inquietante quando gli attribuiamo cattive intenzioni. Ma ciò non basta. Va ancora aggiunto che le sue intenzioni di nuocerci si realizzeranno con l'aiuto di particolari poteri. L'oiettatore è un buon esempio di figura inquietante, ancora viva nella superstizione dei popoli neolatini, che nel suo libro Josef Monfort Albrecht, Schaeffer, con intuizione poetica e profonda comprensione psicoanalitica, ha trasformato in figura simpatica. Ma questi poteri segreti ci riportano sul terreno proprio dell'animismo. È il presentimento di questi poteri misteriosi che rende così inquietante Mephistofele agli occhi della pia Margherita. Lei si sente che io di certo sono un genio, forse anche il diavolo. L'inquietante dell'epilessia e della follia ha la stessa origine. Nel prossimo davanti a sé, il profano vede manifestarsi forze insospettate, il cui moto è in grado di percepire oscuramente in angoli remoti della propria personalità. In modo conseguente e psicologicamente quasi corretto, il Medioevo aveva attribuito tutte queste manifestazioni morbose all'azione di demoni. E non mi stupirei di sentir dire che la stessa psicoanalisi che si occupa di scoprire tali forze occulte sia perciò diventata inquietante per molti. In un caso in cui riuscì, anche se non molto alla svelta, a ristabilire una ragazza da molti anni inferma, ho io stesso sentito la madre dire una cosa simile quando la ragazza era già guarita da tempo. Membra amputate, teste mozzi, mani recise dal braccio come in una fiaba di Hauf, piedi che danzano da soli come nel libro citato di Schaeffer, hanno in sé qualcosa di straordinariamente inquietante, specie attribuendo loro, come nell'ultimo esempio, anche un'attività autonoma. Sappiamo già che questa inquietudine deriva dall'avvicinarsi al complesso di castrazione. Alcuni vorrebbero assegnare la palma dell'inquietante all'idea di essere sepolti in morte apparente. La psicoanalisi ci ha insegnato che la terrificante fantasia è solo la trasformazione di un'altra, in origine per nulla spaventosa, anzi portato di una certa lascivia, cioè la fantasia di vivere nel ventre materno. Aggiungiamo ancora qualcosa di generale, a rigore già contenuto nelle nostre precedenti affermazioni sull'animismo e sulle superate modalità di lavoro dell'apparato psichico, ma che sembra degno di essere sottolineato in modo particolare. Spesso e volentieri l'inquietante si attiva quando il confine tra fantasia e realtà si dissolve e ci si para realmente davanti qualcosa che fino ad allora avevamo ritenuto fantastico, quando cioè il simbolo supera la portata e il significato di ciò che simboleggia, e via di questo passo. Qui poggia anche buona parte dell'inquietudine connessa alle pratiche magiche. L'elemento infantile, dominante anche nella vita psichica dei nevrotici, sopravvaluta la realtà psichica rispetto a quella materiale, un fatto da riportare all'onnipotenza dei pensieri. Durante la guerra mondiale mi capitò in mano un numero della rivista inglese Strand, dove, tra altri articoli abbastanza superflui, lessi il racconto di una giovane coppia, andata ad abitare in un appartamento ammobiliato dove c'è un tavolo dalla forma strana con coccodrilli intagliati nel legno. Ogni sera si diffonde nell'abitazione un puzzo insopportabile, caratteristico. Nel buio i giovani inciampano contro qualcosa, credono di vedere non so che di indefinibile che guizza per la scala. Per farla breve, sono portati a immaginare che, data la presenza del tavolo, la casa sia abitata da coccodrilli fantasmi o che nell'oscurità i mostri di legno si animino e cose del genere. Era una storia parecchio scipita, ma l'effetto inquietante percepito era straordinario. A conclusione di questa serie, certo ancora incompleta di esempi, va citata un'esperienza tratta dal lavoro psicoanalitico che, se non dipende da una coincidenza casuale, dà la conferma più bella alla nostra concezione dell'inquietante. Succede spesso che uomini nevrotici dichiarino che il genitale femminile sia per loro qualcosa di inquietante, ma tale inquietante è l'accesso all'antica patria, heimat, dell'uomo. Al luogo in cui ognuno ha dimorato un tempo e che anzi è la sua prima dimora. Amore e nostalgia, dice un'espressione scherzosa, e quando chi sogna una località o un paesaggio pensa sognando, questo luogo mi è noto, qui sono già stato. L'interpretazione può inserire al posto del paesaggio il genitale o il corpo della madre. Anche in questo caso, quindi, unheimlich è ciò che un giorno fu heimisch, familiare. Il prefisso negativo un della parola è il contrassegno della rimozione.